Preparo la carbonara alla mia conquilina, cioè carbonara con la pancetta, no non si può dire Preparo una pasta con uova e pancetta Perché? Gli ingerenti, quattro uove, questo è assolutamente guanciale, non è pancetta, non lo è Formaggio che è assolutamente pecorino perché l'ho raccolto proprio stamattina qua sotto con le mie mani Come vi ho detto ho separato i rossi dai bianchi Se sono offensiva chiedo scusa ma non è mio intento assolutamente offendere qualcuno Lo sai come si chiama la pasta che sa leggere? Le fettuccine alfabeto Non l'ho capito perché ho fatto Le fettuccine alfredo Non fa ridere con alfabeto Merda Chi è che ha perso un sandalo? Per favore dai un voto a questa pasta al pesto Non volevo non piangere Facciamola vedere Tu sorella è l'embriaga La crema la mamma non guarda Vai caccia